Che praticamente c'è sta la Ryan e che è l'aereo che pigliano quelli che c'hanno li pezzar culo che quando ci vai in un poi fan cazzo, che praticamente te devi portà dieci chili di roba, se no te lasciano l'aereo e te sputano pure e te dicono pure a stronzo. Allora arrivi là e c'è sta a peggio gente, la vecchia cormaglione viola che te la chiami a vecchia d'apocalisse perché porta sempre zella, perché dice che non parte l'aereo e allora te gratti, e più te gratti e più te saccolla e allora pensi all'immortaccia tua, poi c'è sta un padre con cappello di merda che se lo mette pure dentro l'aeroporto di bohè perché deve far vedere che è nato a Parigi e che te dice non vedo l'ora di tornare a Roma, perché non uso sta senza me a far pigliare male e tu pensi all'immortaccia tua pure a te. Poi c'è sta un pischello e una pischella in fila, che pischello scopri poi che parla da donna e dici oh ma che davvero, e c'ha pure la felpa di tigro perché è nata a Disneyland, allora prima dici che è uomo, poi che è donna alla fine dici che è frocia. Prima vedi che saranno quelli che c'hanno la priority, perché hanno pagato 5 euro de' più, e allora te pensi ma che ta' a tiri e a fa' che se c'avevi l'isordino sta vimica vola sulla rai a me. Poi sa risu sto cazzo de'aereo de' merda, e te sedi ar posto 20 che stai stretto come risuci, me metti la roba ar posto 1 perché c'è sta'na vecchia de' merda che c'ha messo la giacca ar posto 20 e pensi all'immortaccia tua. Poi l'aereo parte e te spegne no le luci e dici bella mo ma dormo, poi però le riaccenno e la hostess te romper cazzo a rota prima se voi comprare profumo de' Britney Spears, poi se voi manate a pizzetta che se de' pollo a 5 euro, poi se te voi piare pu mandate a ravison, poi alla fine cor gratta e vinci, che una volta meso comprata biglietto a 2 euro perché me stavano a rompere cazzo e non ho vinto un cazzo e ho pensato l'immortaccia sua. Poi dopo che te rotto er cazzo la hostess, dici ri bella mo ma dormo e invece cor cazzo, perché te mettono la musichetta iepa pa pa iepa pa iepa rai a me. Alla fine atteri a Roma che c'è sta' pure la trombetta che fa poro 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 e allora gli fanno pure l'applauso e te pensi ma che applauso appena scanno dall'aereo te corco de' botte l'immortaccia tua del gratta e vinci, del profumo de' Britney Spears e da pizzetta 5 e di. Eppure bella vecchia, Michela Girò, alias Michela Girò.